L'uomo nell'astuccio Nel granaio dell'ostarosta di Mirono Sitzkoe, proprio in fondo al villaggio, due cacciatori attardati si erano sistemati per passarvi la notte. Erano il veterinaio Ivan Ivanich e il professore di liceo Burkin. Ivan Ivanich aveva un cognome alquanto strano, Cims Gimalavski, ma poiché quel doppio cognome non si addiceva alla sua persona, lo chiamavano semplicemente in tutto il distretto col nome e il patronimico. Abitava in città accanto a un deposito di cavalli ed era venuto a caccia per prendere un po' d'aria. Il professore trascorreva ogni estate presso il conte P e si trovava in cui villaggio come a casa sua. I cacciatori non dormivano, ma Ivan Ivanich, un vecchione magro e dai lunghi baffi, fumava la pipa accanto all'uscio del granaio rischierato dalla luna e Burkin, disteso dentro, sul fieno, era invisibile nell'ombra. I due uomini si erano raccontati varie storie. Tra l'altro avevano parlato della moglie dello starosta, Mavra, donna vigorosa e tutt'altro che sciocca, che mai era uscita dal paese nativo e mai aveva veduto una città né una ferrovia e negli ultimi dieci anni era rimasta sempre seduta accanto alla stufa, uscendo di casa solo la notte. Che c'è di strano? domandò Burkin. C'è parecchia gente solitaria per natura, che come il gambero a gusti eremitici o come la lumaca cerca di nascondersi nel guscio. Forse questo è un fenomeno atavico, un ritorno all'età in cui l'antenato dell'uomo non era ancora un animale sociale e viveva solitario nella sua caverna. Oppure può darsi semplicemente che sia una delle varietà del carattere sociale, chi lo sa? Io non sono un naturalista e non tocca a me risolvere simili problemi. Voglio solo dire che persone come Mavra non sono un fenomeno raro. Ecco, per esempio, senza andare più lontano, circa due mesi orsono, morì nella nostra città un certo Belikov, mio collega professore di greco. Di certo avete udito parlare di lui. Si faceva notare perché non usciva nemmeno col bel tempo, se non col parapioggia, con le soprascarpe e con un soprabito foderato. Il suo parapioggia aveva una fodera, il suo orologio aveva un astuccio di pelle grigia, e il suo temperino, quando lo tirava fuori per temperare la matita, aveva anch'esso un astuccio. Pareva che stesse in una fodera perfino il suo viso, perché egli lo nascondeva sempre nel bavero rialzato. Portava occhiali affumicati, un panciotto di lana, metteva cotone nelle orecchie e, prendendo una vettura, faceva tirar su il soffietto. In breve, si osservava in costui il desiderio irresistibile e costante di rannicchiarsi il più possibile in un guscio, di costruirsi, per dir così, un astuccio che lo isolasse e lo riparasse da tutti gli influssi esterni. La realtà lo sgomentava, lo urtava, lo teneva in una perpetua emozione e forse era per giustificare il suo sgomento o disgusto del reale, che instancabilmente vantava ciò che è passato ed inesistente. Le lingue antiche che insegnava erano per lui come le sue soprascarpe o il suo parapioggia e di esse si faceva schermo contro la realtà della vita. Ah, diceva con voce dolce, come sonora e bella è la lingua greca e, in appoggio a quanto diceva, chiudendo un occhio e alzando un dito, pronunciava Antropos. Il suo pensiero, Belikov, si studiava di ripararlo pur esso dentro un astuccio. Per lui erano chiare soltanto le circolari e gli articoli dei giornali in cui si vietava qualche cosa. Se le circolari vietavano agli alunni di uscire per la strada dopo le nove di sera, o in qualche parte si stampava qualcosa contro l'amore fisico, ciò era chiaro, ben determinato, è proibito e basta. Nei permessi invece, nelle licenze, c'era sempre per lui alcun che di sospetto, di vago e di incompleto. Quando si dava autorizzazione di aprire in città un circolo filodrammatico, una stanza di lettura o una sala da tè, Belikov scuoteva il capo dicendosi a voce bassa «Questo è bene, evidentemente questo va benissimo, purché non succeda poi qualche cosa!» Le infrazioni di qualunque sorta fossero, le violazioni di regole acquisite, lo gettavano nell'abbattimento anche quando non lo riguardavano affatto. Uno dei suoi colleghi arrivava in ritardo a un ufficio religioso, correva voce di non si sa che farsa di collegiali, si incontrava la sera tardi una bidella con un ufficiale, ed ecco, egli si agitava e continuava a ripetere «Purché non succeda poi qualche cosa!» Alle nostre riunioni si opprimeva tutti con la sua circospezione, con la sua diffidenza, con le sue considerazioni da uomo nell'astuccio sulla cattiva condotta della gioventù nei ginnasi maschili e femminili, sul chiasso che faceva in classe. «Ah, purché non lo vengono a sapere i superiori!» «Purché non succeda nulla!» e sosteneva che se avessimo escluso dalla seconda Petrov e dalla quarta Egorov, tutto sarebbe andato bene. E, credetelo, i suoi sospiri, i suoi lagni, i suoi occhiali affumicati sul faccino pallido che somigliava al musetto della puzzola, Belikov ci opprimeva tutti. E noi si cedeva, si dava qualche cattivo voto a Petrov, a Egorov, si finiva col cacciarli dal ginnasio. Belikov poi aveva una strana abitudine, veniva ogni tanto a farci visita nelle nostre case. Giungeva da uno di noi e si metteva a sedere tacendo, come se osservasse qualche cosa. Rimaneva seduto così per una o due ore, in silenzio, quindi se ne andava di nuovo. Questo si chiamava, secondo lui, mantenere buoni rapporti coi colleghi. Evidentemente, venire da noi e restare seduto era una cosa penosa per tutti, ma lui viveva lo stesso perché lo considerava un dovere, un dovere di buon camerata. Noi, suoi colleghi, avevamo di lui un certo timore. Anche il preside lo temeva. Figuratevi, eravamo tutti abituati a pensare con le nostre teste, nella maniera più aperta, educati sul modello di Turgenev e di Shedrin. Malgrado ciò, il brav'uomo, che non abbandonava un istante le soprascarpe nel parapioggia, ci fece venire il fiato grosso durante quindici anni, a noi e a tutto il liceo. Il liceo non sarebbe stato nulla, addirittura opprimeva la città. Le nostre signore non organizzavano degli spettacoli in un giorno di sabato. Temevano che egli venisse a saperlo. I sacerdoti davanti a lui si sentivano imbarazzati a mangiare di grasso e a giocare alle carte. Sotto l'influsso di un uomo come Belikov, in questi ultimi dieci o quindici anni, si finì tutti in città per avere paura di tutto. Si aveva paura di parlare ad alta voce, di spedire le lettere, di fare delle conoscenze, di leggere dei libri, di aiutare i poveri, di insegnare a leggere e a scrivere. Ivan Ivanich, avendo qualche cosa da dire, tossicchiò, accese la pipa e guardò la luna. Poi disse, scandendo le parole, «Già, degli uomini riflessivi, per bene, che leggono Shedrin, Durgeniev e altri, si sottomettevano. Tolleravano tutto. Ecco a che punto si era. Belikov, continuò a Burkin, abitava nella stessa casa mia, sullo stesso pianerottolo e nostre porte si guardavano, ci si vedeva sovente e io conoscevo la sua vita privata. A casa sua, sempre la stessa storia, e staglia da camera e paparina, e persiane e catenacci, e tutta una serie di misure di protezione, di proibizioni, di restrizioni e di... Ah, purché non succeda qualche cosa! Mangiare di magro è nocivo, e mangiare di grasso non poteva sempre, perché la gente avrebbe detto che Belikov non osservava i digiuni. Mangiava quindi pesce persico al burro, un alimento né magro né grasso. Non teneva servitù femminile, temendo che si pensasse male di lui. Aveva per cuoco un braguomo di 60 anni, ubriacone e mezzo matto, un certo Afanasi, il quale, essendo stato una volta attendente, sapeva un po' di cucina. Afanasi stava di solito vicino alla porta, con le braccia incrociate, borbottando sempre la stessa cosa con un profondo sospiro. Ce n'è molti oggi, di quelli là. La stanza da letto di Belikov era piccola, come una scatola. Sul letto teneva le cortine, e coricandosi, si tirava il lenzuolo sopra il capo. Aveva caldo e scoppiava, il vento scoteva le porte chiuse e urlava nel camino. Dalla cucina venivano dei sospiri, dei sospiri lugubri. E Belikov tremava sotto le coperte. Aveva paura che gli capitasse qualche cosa, paura che Afanasi lo strozzasse, paura che i ladri entrassero. E per tutta la notte aveva sogni agitati. Al mattino, quando si andava insieme al liceo, era pallido e malinconico. si vedeva che il liceo affollato gli metteva paura e ripugnava a tutto il suo essere, e che riusciva penoso, a un uomo così solitario per natura, di camminare al mio fianco. «Si fa tanto chiasso nelle nostre aule», mi diceva tentando di trovare una ragione al suo interno disagio. «Tanto chiasso mi fa paura». «Potete adesso immaginarvelo. Codesto professore di greco, codesto uomo tutto dentro un astuccio, sul punto di sposarsi». Ivan Ivanich si voltò vivamente verso Burkin e gli disse «Scherzate!» «Sì, per quanto strano», ripete Burkin, egli fu in procinto di prendere moglie. Un nuovo professore di storia e geografia a un certo Kovalenko, Mikhail Savvich, un ucraino, era stato nominato nel nostro liceo. Arrivò accompagnato dalla sorella, Varenka. Era giovane, alto, bruno, con mani enormi. Si vedeva subito dal suo viso che aveva una voce di basso. In vero la sua voce pareva uscire da una botte. Sua sorella, Varenka, non era più giovanissima, sulla trentina ma alta, ben fatta, con sopracciglia nere e gote rosse. Insomma, non una zitella, ma un amore di ragazza, sveglia di mente e vivace, appassionata delle canzoni piccolo-russe che cantava di continuo. E' sempre pronta alle risa. Per ogni minima cosa scoppiava in risate sonore. Ha 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 ha! La prima conoscenza un po' approfondita con Ico Valenco avvenne alla festa del preside. In mezzo a professori severi e noiosi che si trovavano là come per obbligo, vedemmo a un tratto sorgere dalle onde una nuova afrodite. Teneva le mani sulle anche, rideva, cantava, danzava, cantava con foga, «I venti muggono!» Poi una romanza e ancora un'altra e ancora un'altra! C'entusiasmò tutti, compreso Belikov, il quale le si sedette accanto e, sorridendole con dolcezza, le disse «La lingua ucraina ricorda per la sua dolcezza e la sua gradevole sonorità la lingua greca antica!» Lusingata, essa si mise a raccontare con molto sentimento e convinzione che possedeva nel distretto di Gadiac una fattoria, abitata da sua madre, dove maturavano pere, meloni e melanzane grosse così e che laggiù si faceva una zuppa con barbe rosse e turchine così buona da far svenire. Noi l'ascoltavamo e subito avemmo tutti la stessa idea. «Sarebbe bello sposarli, quei due», mi spigliò la moglie del preside. Ci ricordammo ad un tratto che il nostro Belikov di fatti era scapolo e ci parve strano non averci fatto caso prima, non aver rilevato un aspetto così importante della sua vita. Cosa pensava lui delle donne? In che modo considerava una così comune questione? Prima d'allora quel che ne pensasse non ci aveva per nulla interessato. Forse neppure ammettevamo che un uomo che portava le soprascarpe in tutte le stagioni e dormiva sotto un baldacchino potesse amare. Lui ha più di quarant'anni, lei ne ha trenta. Può darsi che lei se lo piglierebbe, aggiunse la moglie del preside. Cosa mai non si fa in provincia, tra tanta noia? Quante cose inutili, assurde! E questo avviene perché non si fa mai quello che si dovrebbe fare. ma ecco che bisogno avevamo noi di sposare questo Berikov che neanche era immaginabile con una moglie. Ma la moglie del preside, del censore e tutte le signore del liceo si rianimarono. Quasi diventarono più belle, come se avessero finalmente trovato uno scopo alla loro esistenza. La moglie del preside affittò un palco a teatro e noi vedemmo lì Varenka raggiante, felice, con in mano un grande ventaglio e al suo fianco Berikov, piccolo contorto come se lo avessero tirato fuori da casa con le tenaglie. Avendo in seguito offerto io stesso una piccola serata, i signori mi dissero di invitare Varenka e Berikov. Insomma, la macchina si era mossa. Si vedeva che Varenka non riluttava a un simile matrimonio poiché vivere col fratello non era cosa allegra. Passavano le loro giornate a discutere e a litigare. Ecco un esempio. Kovalenko per la strada se ne va, grosso e atticciato, con la camicia a ricami e un ciuffo che gli esce dal berretto sulla fronte. Ha in mano un pacco di libri e nell'altra un grosso bastone. La sorella lo segue portando lei pure dei libri. Tu non hai neanche letto questo, Mikhail, dice lei a voce alta, agitata. Ti dico, ti giuro che neanche lo hai letto. Invece ti dico che l'ho letto, grida Mikhail battendo il selciato col bastone. Ah mio Dio, perché ti arrabbi? Non è che una discussione teorica. Ti dico che l'ho letto, grida Kovalenko anche più forte. A casa loro, appena capitava un estraneo, era un fuoco di fila. Una vita simile annoiava evidentemente la piccola Varenka. Essa voleva una casa sua e doveva pensare che aveva una certa età. Non era più il momento di fare la difficile. Avrebbe sposato un uomo qualunque, persino un professore di greco. Bisognava confessare che la maggior parte delle nostre ragazze sposerebbero non si sa chi unicamente per sposarsi. Sta di fatto che Varenka cominciava a mostrare una chiara benevolenza per il nostro Belikov. e Belikov andava da Kovalenko come veniva da noi. Arrivava là, si sedeva, non diceva una parola. Taceva e Varenka gli cantava «I venti muggono!» oppure lo guardava con i suoi occhi neri, scoppiando poi improvvisamente a ridere. Nelle cose d'amore e particolarmente nel matrimonio, la suggestione ha una parte importante. Tutti i colleghi e le signore fecero a gara per convincere Belikov che doveva sposarsi e che non gli restava se non questo da fare nella sua vita. Noi lo felicitavamo tutti, gli dicevamo molto seriamente ogni sorta di banalità. Gli dicevamo, per esempio, che il matrimonio è una cosa seria. Varenka inoltre era carina, interessante, era figlia di un consigliere di stato e aveva una fattoria. Soprattutto essa era la prima donna che gli avesse dimostrato della tenerezza e della bontà. egli perdette la testa e decise che, infatti, doveva sposarsi. Sarebbe stato questo il momento giusto, disse Ivanic, per portargli via le soprascarpe e il parapioggia. immaginate facilmente che si trattava di cosa impossibile, collocò sul suo tavolo la fotografia di Varenka e venendo da me non faceva altro che parlarmi di lei e della vita di famiglia dicendomi che il matrimonio è una cosa seria. Andava spesso da Covalenco, non mutava però in nulla il suo genere di vita. Al contrario, la risoluzione di sposarsi produsse su di lui un effetto increscioso. Dimagri, diventò pallido, fu come se sprofondasse di più dentro il suo astuccio. «Pervara, Savirna, mi piace», mi diceva con un debole sorrisetto confuso. «E so che ognuno ha da prendere moglie, ma...» «Tutto questo è accaduto così in fretta, lo sapete? Bisogna riflettere». «Riflettere?» «A che?» gli chiesi. «Sposatevi, ecco tutto». «No, il matrimonio è una cosa seria. Occorre anzitutto considerarne gli obblighi, le responsabilità. Purché in seguito non succeda nulla, ciò mi tormenta talmente che nemmeno dormo più la notte. E lo confesso, ho paura. Lei e suo fratello hanno strani modi di pensare, ragionano stranamente e lei ha un carattere molto vivo, sposarla e dopo capitare male. E si riproponeva di continuo la stessa questione, a dispetto della moglie del preside e di tutte le nostre signore. Pensava e soppesava gli obblighi e le responsabilità. Tuttavia andava a passeggio quasi ogni giorno con Varenka, forse supponendo che nella sua situazione fosse necessario. Vivi veniva a parlarmi della vita di famiglia. Avrebbe fatto secondo ogni probabilità la sua formale domanda e contratto uno di quei matrimoni inutili e sciocchi come da noi fanno migliaia di persone per effetto di ozio e di noia se a un tratto non fosse venuto a scoppiare un colossalischer scandal. Occorre dire che il fratello di Varenka aveva sin dal primo giorno preso in odio Belikov. Non poteva vederlo. Non capisco, ci diceva alzando le spalle, come voi sopportiate questo tipo di spione, quest'individuo ripugnante. Ah signori, come potete vivere qui in un'atmosfera così soffocante, così disgustosa. Ma siete davvero dei professori, dei maestri? Siete dei burocrati striscianti e la vostra scuola non è un tempio della scienza ma un ufficio di polizia. Vi si sente panfo di chiuso come in un corpo di guardia. No colleghi cari, io resterò qui ancora un po' di tempo e dopo mi ritirerò nella mia fattoria. Ma me ne andrò a pescare i gamberi e a istruire i ragazzi ucraini. Me ne andrò e voi resterete qui col vostro Giuda, Crepi. Rideva forte, rideva sino alle lacrime, con un riso stridulo e acuto. Mi domandava spalancando le braccia. Oh, che avrà da venire a casa mia? Cosa vuole? Resta là seduto a guardarmi. Covalenco aveva trovato un soprannome a Belikov. Lo chiamava in ucraino la Ragnatella. Noi evitavamo quindi di parlargli che sua sorella stava per sposare le Ragnatele e allorché un giorno la moglie del preside si lasciò sfuggire che sarebbe stato bene che sua sorella sposasse un uomo tanto serio e grandemente stimato da tutti quale Belikov, Covalenco borbottò «Questo non mi riguarda. Sposi anche un rettile. Non mi piace intrigarmi negli affari altrui. E adesso ascoltate quel che accadde. Non so chi fu quello spirito bizzarro che fece una caricatura di Belikov con le soprascarpe e i pantaloni rimboccati in ombrello aperto a braccetto di Varenka e sotto la scritta Antropos innamorato. La somiglianza era, ve lo assicuro, sorprendente. Scommetto che l'artista ci aveva lavorato per più di una notte poiché tutti gli insegnanti del ginnasio maschile e femminile anche gli impiegati ne ricevettero una copia. Anche Belikov ebbe la sua e la caricatura produsse su di lui la più tremenda impressione. Una domenica, primo maggio, uscimmo insieme di casa perché avevamo convenuto tra professori e alunni di ritrovarci vicino al liceo per andare insieme nei boschi. Belikov era verde e più cupo di una nuvola burrascosa. Come la gente è malvagia, perfida, disse con le labbra tremanti. Mi fece addirittura pietà. D'improvviso, figuratevi, mentre si camminava arriva in bicicletta Covalenco e dietro lui sua sorella pure in bicicletta, stanca, rossa, ilare, soddisfatta. Noi andiamo avanti, gridò. Fa così bel tempo, così bello da non credere e tutte e due scomparvero. Da verde che era il mio Belikov diventò bianco, pareva pietrificato. Si ferma e mi guarda. Scusate, mi disse. Che è dunque? O forse travedo? Credete che sia decente per dei professori e delle donne? andare in bicicletta? E che c'è di indecente? Domandai. Se ne vadano come a loro garba. Ma è possibile? Sclamò stupefatto della mia calma. Cosa avete detto? Rimase talmente stordito da non voler più andare innanzi. Rientrò a casa sua. Il giorno dopo, tutto tremante, si stropicciava le mani nervosamente senza posa. Gli si leggeva in viso che stava male. lasciò la sua classe, cosa che non gli era mai accaduta in tutta la vita. Non pranzò e verso sera si mise dei panni pesanti, neanche fosse estate, e si avviò lentamente dai Kovalenko. Varenka era uscita e suo fratello era solo. Prego, sedete, disse Kovalenko con freddezza e col viso accigliato. Pareva avesse sonno. Aveva fatto la siesta dopo colazione ed era di cattivo umore. Velikov, dopo una decina di minuti di silenzio, cominciò. Vengo a dirvi quel che mi sta sul cuore e mi pesa. Un umorista mi ha voluto disegnare in un aspetto ridicolo con una persona che c'è vicina, a voi e a me. Tengo a dirvi che io non centro per nulla. Non ho dato nessun pretesto a simile canzonatura, anzi, al contrario, mi sono sempre condotto irreprensibilmente come deve fare ogni uomo da bene. Kovalenko restò seduto, imbronciato e silenzioso. Velikov attese un poco e riprese poi, piano, con voce triste. E ho anche qualche altra cosa da dirvi. Sono professore da lungo tempo, mentre voi siete appena agli inizi e in quanto più anziano di voi credo dovervi dare un avvertimento. Andare in bicicletta è una distrazione del tutto sconveniente per un educatore dei giovani. E perché, chiese Kovalenko con la sua voce di basso, forse che occorre una spiegazione, Mikhail Savic? Non è facile capirlo? Se il maestro va in bicicletta, che rimane da fare agli scolari? Non resta loro altro che camminare sulla testa. E dal momento che ciò non è autorizzato da una circolare, è chiaro che non è permesso. Ieri mi sono spaventato quando vidi vostra sorella non credevo ai miei occhi. Una donna, una signorina in velocipede, orribile. Insomma, cosa volete? Non desidero che una cosa, avvertirvi, Mikhail Savic. E' giovane, avete l'avvenire dinanzi a voi, dovete comportarvi con molta, molta prudenza. Voi, vi prendete troppa libertà. Oh, se ve ne prendete. Portate delle camicie ricamate, circolate di continuo in città, tenendo non si sa che libri. E adesso, in velocipede. Il preside saprà che voi e vostra sorella andate in bicicletta, e ciò arriverà sino agli orecchi del provveditore. Non ne verrà nulla di buono. Il fatto che mia sorella ed io giriamo in bicicletta non riguarda nessuno, esclamò Kovalenko, diventando rossofuoco. Chi si impiccia dagli affari miei privati e domestici, lo mando al diavolo! Velikov in pallidia e si alzò. Se la prendete su questo tono, non posso continuare, disse. Vi prego di non parlare così in mia presenza dei superiori. Dovete comportarvi con rispetto verso le autorità. Ho forse detto alcunché di male nei loro riguardi, chiese Kovalenko guardandolo con collera. Lasciatemi in pace, per favore, io sono un uomo serio e non voglio parlare con uno come voi. A me non piacciono le spie. Velikov, coi nervi sotto sopra si mise il sopravvito, sembrava atterrito, era la prima volta nella sua vita che udiva grossolanità simili. Potete dire quel che volete, fece uscendo sul pianerottolo. Devo solamente avvertirvi che qualcuno forse ci ha inteso e che al fine di non vedere alterato il nostro discorso e perché non vi siano conseguenze, mi trovo obbligato a trasmettere al signor preside un sunto della nostra conversazione e le sue grandi linee. Sono costretto a farlo. Trasmettere? Prendi qua e vaglielo a trasmettere. Kovalenko lo afferrò per la collottola, lo spinse in avanti. Velikov ruzzolò giù per le scale facendo un gran rumore con le sue calosce. Benché la scala fosse lunga e ripida capitombolò sino in fondo senza farsi male. Si levò in piedi e si tastò il naso per accertarsi che gli occhiali non si fossero rotti. Ma in quel punto mentre ruzzolava Varenka era accorsa con due signore. rimasero giù a guardare e ciò fu per Velikov ancora più terribile di tutto il resto. Sarebbe stato meglio così gli sembrava che si fosse rotto il collo e le gambe anziché apparire ridicolo. Adesso tutta quanta la città lo avrebbe saputo. Lo avrebbe saputo il provveditore. Purché non succedesse qualche cosa lo avrebbero di nuovo messo in caricatura ed egli avrebbe finito per dover presentare le sue dimissioni. Mentre Velikov si rialzava da terra Varenka lo riconobbe e vedendo quella sua strana faccia il suo sopravito spiegazzato le sue soprascarpe di cauciù e non comprendendo ancora quel che era successo supponendo anzi che così casualmente fosse caduto per le scale non ebbe ritegno e si abbandonò a uno scoppio di risa che risuonò per tutta la casa. questo tumultuoso turbinante decise tutto matrimonio e vita terrestre di Velikov egli non capì nulla di ciò che diceva Varenka e non vide più nulla rientrato a casa leva via immediatamente il ritratto di lei dal tavolo sicuricò e non si alzò più. Tre giorni dopo Afanasi venne da me a domandarmi se non fosse necessario chiamare un medico. C'è che qualche cosa doveva essere accaduto al suo padrone. Mirkaida Belikov, coricato dietro le cortine del letto, sotto le coperte, egli taceva. Alle domande non rispondeva se non con un sì o con un no. Nessun altro suono. Vicino al suo letto Afanasi andava e veniva, cupo, rabbuiato con sospiri profondi, con un puzzo di vodka come all'osteria. Di lì a un mese Belikov morì. Andammo tutti al suo funerale. Tutti, cioè i due ginnasi e la scuola magistrale. Dentro la bara aveva un'espressione dolce e gradevole, quasi lieta, come se egli fosse contento di essere finalmente stato messo dentro un astuccio da cui non sarebbe più uscito. Aveva raggiunto il suo ideale. E, come in suo onore, nel giorno della sepoltura il tempo fu grigio e piovoso. Avevamo tutti delle soprascarpe e degli ombrelli. Varenka assistette anch'essa alle esequie e nel momento in cui si pose il corpo a terra versò qualche lacrima. Osservai che gli ucraini piangono oppure ridono alla scoppiare. Non hanno un umore intermedio. Confesso, seppellire persone come Belikov fa piacere. Ritornando dal cimitero, avevamo dei visi affranti e tristi. Nessuno voleva lasciar trasparire il proprio sentimento di piacere, simile a quello che provavamo nella nostra infanzia allorché i genitori uscivano di casa e noi correvamo per una o due ore in giardino assaporando piena libertà. «Ah, la libertà! La libertà! Basta un'allusione, una fievole speranza che essa possa esistere e dare ali all'anima. Non è vero!» Tornammo dal cimitero in una serena disposizione di spirito. Ma trascorsa appena una settimana la vita riprese al modo di prima, dura, faticosa, assurda. Non era meglio di prima. Avevamo seppellito Belikov, ma quanti uomini ancora restavano nel loro astuccio, nel loro guscio! Quanti ce ne saranno ancora! «Sì, proprio così», disse Ivan Ivanich, accendendo la pipa. «Quanti ce ne saranno ancora?» ripete Burkin. Il professore uscì dal granaio. Era un uomo di piccola statura, completamente calvo, con una barba nera che gli scendeva sul petto. Due cani uscirono insieme a lui. «Che luna! Che luna!» disse guardando il cielo. Era già mezzanotte. Si vedeva a destra tutto il villaggio. La lunga strada si snodava lontana, quasi cinque verste. Tutto era immerso in un calmo e profondo sonno. Nessun rumore. Si stentava persino a credere che la natura potesse essere così silenziosa. Quando si vede, in una notte di luna, la larga strada di un villaggio con le sue isbe, i pagliai, i salici addormentati, l'anima si acquieta. Fra le ombre della notte, sgombra dalle cure e dagli affanni, dal lavoro, essa è nel suo riposo dolce, triste e bella. E sembra che le stelle anch'esse la guardino con una tenera carezza e non esiste più il male sopra la terra e tutto sia bene. A sinistra, in fondo al villaggio, cominciava un campo. Lo si vedeva distendersi fino all'orizzonte. Per tutto il suo spazio inondato dal chiaro di luna, non un movimento, non un rumore. Sì, è proprio così, ripete Ivan Ivanitz. E quando noi viviamo in città, allo stretto, senza aria, quando noi scriviamo delle carte inutili, giochiamo a Wint, non siamo forse in un astuccio. Ecco, se volete vi racconterò una storia istruttiva. No, disse Burkin, è tempo di dormire. A domani. Entrarono entrambi nel granaio e si colicarono nel fieno. Cominciavano ad addormentarsi quando a un tratto si intesero dei passi leggeri. Top! Top! Qualcuno camminava presso il granaio. Faceva alcuni passi e poi si fermava. E un minuto dopo ricominciava top! 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 I cani si misero ad abbaiare. Mavra, disse Burkin, cessò il rumore dei passi. Vedere e sentir mentire, disse Ivan Ivanitz voltando nel fieno, ed essere inoltre trattati da imbecilli perché si sopporta la menzogna, perché si sopportano le ingiurie, le umiliazioni, perché non si osa dichiarare apertamente che si è nel numero delle persone oneste, libere, e ingannare se stessi e sorridere. Tutto ciò per un boccone di pane, per un cantuccio al focolare, per qualche titolo meschino che non vale un soldo. No, non si può vivere così. Ah, questa è un'altra faccenda, Ivan Ivanitz, disse il professore. Via, dormiamo. Dieci minuti dopo, Burkin dormiva. Ivan Ivanitz continuava a girarsi e sospirava. Poi si alzò. Uscì. Sedutosi accanto alla porta, accese la pipa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.